Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo tutorial. Come da titolo avete già capito che vi vado a mostrare come andare a scaricare la versione 1.13 della Optifine, ovvero l'ultima disponibile per Minecraft attualmente. L'1.13 è uscita, l'Optifine in realtà non è ancora proprio uscito in modo completo, infatti c'è solo una versione di preview, una versione di beta, e quindi vi mostro appunto come andare a scaricarla. Comunque è molto molto semplice. Però prima di iniziare il tutorial vi voglio ricordare che ho un canale Telegram che si chiama Evots YouTube, quindi vi basterà scrivere su Telegram, chiocciola Evots YouTube, o trovate comunque anche il link in descrizione. Il primo link che troverete sarà quello per unirvi in automatico al mio canale. E cosa troverete? Offerte di Amazon.it, offerte lampo e offerte invece normali che magari durano tutto il giorno, e anche delle news sia sul mio canale sia sul mondo tech. Quindi finita questa premessa, iniziamo subito con il tutorial. Come secondo link troverete il link per appunto andare a scaricare l'Optifine, che in realtà vi porterà sul mio sito web. In questo modo troverete anche una guida scritta, così potete eventualmente leggere la guida invece di stare a sentire tutto il video. E appunto scrollando la pagina troverete la pagina per il download, oppure clicca qui per il link diretto. In questo caso vi faccio vedere come funziona il clicca qui, quindi andrò a cliccare appunto qui, oppure sempre sulla pagina del download, e vi aprirà quest'altra pagina. Sarà una pagina dove dovremmo attendere 5 secondi, come vedete qui in alto a destra, e poi andare a cliccare su skip. In questo caso io ho blocco abilitato, quindi mi dice questo messaggio. In ogni caso se invece andrete a cliccare su pagina del download, vi porterà su quest'altra pagina. E voi direte, ma dov'è la versione 1.13? Non la vedo. Ebbene, come ho detto, la versione 1.13 ufficiale, completa, ancora non è stata rilasciata. C'è solo una versione beta, che per andare appunto a trovarla, vi basterà cliccare su preview versions, e appunto troveremo la Optifine 1.13 HD UE3 beta 4. Per andare a scaricarla appunto vi basterà cliccare o su download o su mirror. In ogni caso questi due link vi portano sempre nella stessa pagina dove vi andrà a portare quest'altra. Quindi il procedimento è lo stesso, sia cliccare su pagina del download o cliccare qui. Quindi appunto aspettate questi 5 secondi, andiamo a cliccare su skip. Potrebbe essere che ci apri dalla pubblicità, noi continuiamo a cliccare su skip. In questo caso non ce l'ha aperta. E come vedete appunto download preview, un file .jar, e quindi per aprire questo file ci servirà java, e spero che voi java ce l'abbiate già installato nel vostro computer. Quindi vi basterà fare un clic semplice, e partirà il download dell'Optifine. Come vedete ci dirà che potrà danneggiare il nostro computer, ovviamente non sarà così, quindi facciamo conserva, e come vedete appunto ce l'ha scaricato. Poi andiamo semplicemente sulla cartella download, come vedete eccolo qui il file. Dovremo appunto andare ad aprirlo con java. Se qui non avrete questa icona, che è appunto quella di java, qui in alto idem, ma avrete magari 7zip o un wirrar o cose simili, vi basterà fare il tasto destro, apri con java. In questo modo vi andrà ad aprire il file nel modo corretto, vi chiederà queste cose, ovvero dove andare ad installarlo. Vi basterà cliccare quindi su install, perché comunque Minecraft sarà sempre installato in questa cartella. Andiamo a cliccare appunto su install, e aspettiamo 5 secondi, nemmeno, e ci dice che è stato installato correttamente. Successivamente cosa dobbiamo andare a fare? Aprire Minecraft, quindi voi sapete dove avete messo il nostro Minecraft, io ho fatto qui un collegamento veloce, e come vedete prendo una volta il launcher, o troveremo subito la versione, come in questo caso, oppure dobbiamo andare a selezionarla, cliccando sulla freccettina qui a fianco. Come vedete appunto ci sono alcune versioni, e la 1.13 Optifine, cosa molto importante appunto, selezionare il profilo giusto, altrimenti non ci sarà appunto i settaggi giusti, e comunque l'Optifine non sarà installata nella versione, ad esempio questa qui. Io spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto, appunto vi ricordo che uscirà sempre su questo mio canale, troverete comunque i link in descrizione per i video, dove andrò a mostrare come scaricare le shaders per Minecraft 1.13, che mi vengono richieste molto molto spesso, e come anche andare a non far laggare Minecraft, perché appunto molti hanno un computer non proprio performante, e quindi hanno bisogno di maggiori FPS. Inoltre sempre in descrizione troverete il link per andare a scaricare una texture pack per Minecraft 1.13. Io quindi il tutorial lo posso concludere qui, vi ricordo del mio canale Telegram, link in descrizione, e noi ci becchiamo nel prossimo tutorial. Ciao a tutti!